Da un giorno all'altro, alle 6 e mezzo di mattina, vedersi portare via non è facile, poi con brutti modi anche. Adesso è davvero finito l'incubo di Alessandro Valentino con tanto di risarcimento, 18.000 euro per l'ingiusta detenzione. Il caso risale all'estate 2015, quando il giovane, all'epoca dei fatti ancora minorenne, fu accusato di stalking e minacce dall'ex fidanzata una sua coetanea. Il ragazzo, residente in Valdarno ed oggi ventenne, si era visto così piombare a casa sette carabinieri che dopo la perquisizione lo avevano portato via. Il giovane, innocente, aveva così scontato tre mesi di carcere, due mesi in comunità ed infine uno agli arresti domiciliari. C'è scritto che sono andato nella sua scuola, prima dell'apertura di scuola, a portargli una bottiglina d'acido e mettergliela sul banco per fargliela bere e magari ammazzarla. La ragazza aveva raccontato di essere stata tempestata di messaggi minatori su social network e su whatsapp, ma non solo. L'ex fidanzata aveva anche denunciato il presunto stupro subito dall'ex fidanzatino a turno con un amico più grande nei pressi di una stazione ferroviaria del Valdarno. Il tutto poi è risultato falso. La giovane aveva infatti utilizzato un'app per produrre migliaia di finti messaggi minatori, inviati a se stessa grazie ad un'applicazione che falsifica le schermate. Perizia che in maniera tombale ha accertato come in realtà la persona offesa abbia falsificato in toto, attraverso applicazioni internet e quant'altro, i messaggi che le sarebbero arrivati. Nel maggio 2018 il Tribunale dei minori di Firenze lo ha prosciolto dall'accuse. Adesso è arrivata anche l'assoluzione in appello e il risarcimento di 18.000 euro per i 92 giorni di detenzione, i due mesi in comunità di recupero per minori in provincia di Perugia e il mese ai domiciliari nell'estate 2015, tutti ritenuti ingiusti. Grazie. Grazie.